Sono Fulvia Mancini, sono ginecologa e dentro dell'ambito della ginecologia faccio il lavoro più bello del mondo perché faccio bambini. Mi occupo di riproduzione assistita, mi sono sempre piaciuti gli ormoni, quindi mi sono specializzata in endocrinologia ginecologica e da lì il passo alla riproduzione assistita è stato molto breve. Ho lavorato negli Stati Uniti, prima a Pittsburgh e poi ad Atlanta, dove le mie ricerche si sono concentrate soprattutto sulla patologia endocrinologica che si relaziona alla fecondazione assistita, quindi ovario policistico, la menorea epotalamica, l'obesità. Poi quando sono tornata in Italia dalla tappa americana ho fatto un dottorato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna in bioetica perché ho capito che avevo bisogno di avere una visione a tutto tondo della riproduzione assistita anche di quelle che sono gli aspetti etici e legali e credo che questo mi abbia reso una professionista migliore. Come madre di una bambina che ho avuto attraverso un percorso di PMA credo di capire molto bene le mie pazienti e sono 15 anni che sono a Parcellona e credo dopo aver lavorato in vari istituti qui a Fertilab di aver trovato veramente l'equilibrio che cercavo perché una paziente che vuole fare un percorso di PMA evidentemente quello che vuole è l'eccellenza da un punto di vista tecnico, quindi laboratoristico, dei professionisti medici che siano veramente ferrati nel loro campo, però quello che vuole anche una personalizzazione, un'attenzione e un'empatia e credo che qui a Fertilab riusciamo veramente a unire questi due elementi ed è probabilmente la ragione per cui abbiamo i risultati eccellenti che abbiamo.